La storia di Anna Maria Stefani riassume una serie di problematiche che molto raccontano del presente, triestino e non. Inizia nel 2005 con la morte della madre e la possibilità di subentrarle nella titolarità di un appartamento Ater. Dal momento che mia mamma è morta nel 2005, ho sempre pagato l'affitto regolare, però comunque non si oppongono a farmi un contratto agli Ater a nome mio. Titolarità che non è mai arrivata nonostante l'azienda abbia continuato a chiedere la dichiarazione dei redditi per calcolare l'affitto. Richiesta proseguita anche dopo l'intimazione di consegna delle chiavi avvenuta fra il 2009 e il 2010. Anna Maria però rimane nell'appartamento di San Giovanni assieme al marito che nel frattempo si ammala, viene operato, perde il lavoro ed ha anche un sussidio IMSS alla figlia e dal nipote. Mio marito comunque è malato, stiamo facendo quel patronato, abbiamo fatto ricorso perché le hanno elevato l'invalidità. Lavoro, all'ufficio del lavoro comunque ci saranno 2000 persone invalide che comunque o non escono o non lavorano, lui non ha lavoro e io sono in questa situazione. Fino al 2013, fino a quando ha lavorato, Anna Maria ha pagato regolarmente l'affitto. Alla fine del 2013 resta senza lavoro, ma con l'aiuto dei servizi sociali del comune riesce a tirare avanti e soprattutto a pagare l'Ater. Ho sempre lavorato, non ho mai chiesto niente, comunque quest'anno comunque ho avuto dei problemi. Ora risulta in ritardo per alcune rate. Anna Maria teme di vedersi ridotto o di perdere il contributo del comune che in ogni caso le è stato rinnovato in questi giorni. Ma soprattutto Anna Maria ha paura di essere considerata un'abusiva, un'occupante e di perdere la casa.